Salve ragazzi e caramici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un argomento di grandissima attualità. Ci tengo a precisare che io sono filo russo, sono vivo, ho vissuto tantissimi anni in Russia, ci vado spesso, vivo comunque in paesi di lingua russa, quindi come capita di sovente non state a sottigliare la mia fonetica per quanto riguarda gli inglesismi. So benissimo che trader si pronuncia trader, anzi vi dirò ancora di più. Una volta ero in Inghilterra, c'è il treno che passa sotto la manica, che puoi andare con quello lì, vai a Parigi, vedo un ufficio turistico, c'è fuori la locandina che vende i biglietti del treno, c'è scritto ticket of train, per il tunnel, tutta quella roba là, entro nel ufficio turistico e gli dico I want, I need ticket of train, quello mi guarda e fa I don't understand, e io dico ma come? Esco dal negozio, riguardo e vedo ma la locandina c'è, quello vende il biglietto del treno. Torno dentro e gli dico un'altra volta, you don't have the train ticket. Quello non capisce, allora vi faccio segno, guarda la locandina qua, questo, questa, la locandina, quello vede la locandina e fa, ah, the ticket of train, train, io con il mio inglese autodidatta mica potevo sapere che train era train, per cui io non essendo anglofino non state a guardare la mia punteggiatura, la mia grammatica, diciamo per quanto riguarda la mia fonetica, scusate, per quanto riguarda la lingua inglese. E non state neanche a guardare il mio italiano, perché ormai l'italiano l'ho perso, sono più di trent'anni che, adesso vado in Italia solamente a Natale, una volta non andavo in Italia manco a Natale con chi parlava italiano, quindi il mio italiano, diciamo, è andato perso. Comunque, che contano sono i miei ragionamenti e quindi se mi volete seguire, seguite il significato delle cose che vi dirò. Allora, questi cosiddetti trader, pronunciato con la mia, lo so benissimo, sembro trader, questi benedetti trader, sono lì da anni che menano il torrone sul fatto che il bitcoin si è in bolla, che il bitcoin, bisogna stare lontano, le parole di Demon, l'admin di JP Morgan. Se i miei dipendenti so, dovessi sapere che fanno qualche cosa col bitcoin, licenze in tronco, state lontano, è una grande speculazione, una grande bolla, poi dopo lui, chiaramente, avendo fatto lui l'aggiottaggio a prezzo, quando sono caduti a prezzo di saldo, si è comprati lui il bitcoin, perché purtroppo il mondo dei trader è fatto, è vero, l'85% sono tontoloni e gente che è stata tirata dentro perché scema, gli hanno messo una camicia, una giacca, una cravatta, l'hanno vestiti bene per fare scena, per attirare altra gente che si fa circuire, altri tontoloni come loro, a tirare dentro nel sistema, investitori. Tanto alla fin fine, la maggior parte di questi qui non gestiscono neanche soldi loro, perché non ne hanno, non hanno abbastanza, loro comunque un compenso per gestire i tuoi soldi se lo prendono comunque, sia se va bene, se va male, a te ti promettono quel 2 o 3%, e questa gente qua per anni hanno menato il torrone a noi che eravamo quelli invasati, i cosiddetti nerd, gente che... lontana, distaccata della realtà, la bolla, la bolla, la bolla, quando in realtà non sono abbastanza lungimiranti da vedere quello che hanno sotto il naso, loro siedono su un'immensa polveriera, questa immensa polveriera è già scoppiata, perché? Perché il bitcoin, diciamo, ha un suo costrutto tecnologico, non è una bolla, la gente crede al bitcoin perché è un next step, ovvero è un qualche cosa che andrà a sostituire quello che c'era in passato, esattamente come la carta moneta, la nota di banco, le banconote hanno sostituito l'oro fisico come l'oro fisico moneta tondina, come a suo tempo l'oro fisico o l'argento moneta tondina è andata a sostituire le conchiglie, e ancora prima le conchiglie sono andate a sostituire il baratto, per cui abbiamo tutta un'evoluzione, un progresso che è inarrestabile, chi è che può fermare il progresso? Nessuno, è come fermare la natura, il progresso è un corso naturale, uno che vuole deviare il corso del fiume apparentemente ci riesce, però comunque fra epoche e ere il fiume tornerà sempre nel suo alveo naturale, non lo puoi spostare, lo puoi spostare, una o due generazioni, lo vedessi, l'abbiamo messo di là, però dopo la fin fine il fiume nelle sue epoche ritornerà sempre nel suo corso naturale, il primo giorno che viene un acquazzone il torrente, il fiume distrugge tutto e ritorna dove deve essere, per cui cercare di andare contro la natura è un qualche cosa di fallimentare. E su questo ci aiutano anche i media, perché anche i media che sono di proprietari di quei trader, ma non quelli dell'85% in perdita, di quella piccola percentuale che può fare aggiottaggio perché monopolizza l'informazione, questa gente qua diciamo trae sempre grande profitto, hanno un loro core business che è babbare l'85% di altri traders che credono alle cose che dicono loro perché sono considerati autorevoli, il Financial Times, l'Economies, tutti i grandi media dell'informazione finanziaria fanno capo ai pesci grossi e i pesci grossi pensano che, cioè sono già anche lungimiranti perché comunque per essere pesci grossi non sono i tontoloni dell'altro 85%, i traders che ci rompono a noi gli attributi nel nostro gruppo Bitcoin Italia. Quella gente lì, essendo gente lungimirante, intelligente, che ha fatto del trade il loro core business e 3 profitto, un 5%, nessuno guadagna il trade, solamente i pesci grossi, vede che noi del Bitcoin gli stiamo rompendo il giocattolino, il giocattolino che per generazione ha sempre funzionato, ha tenuto i popoli schiavi, hanno avuto la possibilità di stampare a carta moneta, assegnare un valore perché le masse credono a quello che dicono loro e la moneta diventa moneta nel momento in cui tutti ci credono. La gente che ha un grosso potere mediatico e tira le redini della finanza perché sempre col solito giocattolino dei media fanno aggiottaggio perpetuo, perché nessuno può conoscere direttamente un prodotto finanziario, tutti lo conoscono per interposta persona dalle parole scritte e dei testi sui media, che di conseguenza sono sempre al soldo dei padroni, è chiaro che i padroni hanno visto che il giocattolino gli sta rompendo e come volevo dire, praticamente come riescono a fare il giottaggio sui prodotti finanziari cerco di farlo anche sul bitcoin. Sono anni che rompono i maroni, i merendi, non so come si dice in italiano, sul fatto che il bitcoin si è in bolla. Ho postato giusto due giorni fa un articolo terroristico da parte dell'economy sul bitcoin del 2013 che diceva il bitcoin è arrivato a 30 dollari, la bolla, la bolla, la bolla, la bolla, la bolla, porca puttana, ma li avreste comprati a 30 dollari i bitcoin nel 2003, ma in quantità industriale, dov'è sta bolla? Oggi idem, il sole 24 ore, la bolla, la bolla, poi dopo cerchi nello storico, ma questa bolla qui è otto anni che questi media associano la parola bitcoin a bolla e questo ci rafforza. Voi mi vedete qua, qualcuno che sa malapena l'inglese, in realtà io sono un cosiddetto cervellone, io mi occupo di... sono algoritmi di intelligenza artificiale, algoritmi di scacchi, robot di boot automatici, robot che vanno dentro in facebook, rubano tutti i dati degli utenti, poi io piloto le masse, piloto le masse, creando informazione politica, gruppi politici, gruppi... tutto quello che io... tutto quello che voglio monopolizzare a livello di informazione. Io sono più potente anche al sole 24 ore perché ho molti più seguaci, se calcolo l'insieme di tutte le mie nicchie che i miei robot vanno a tirare dentro. Per esempio, parli adesso di trading, chi è l'admin di trading italia, il gruppo più grosso di facebook? Chi può essere secondo voi? Un deficiente qualunque? No, sono io, io anzi vi faccio anche vedere come funziona la cosa. Io creo tanti robot e questi robot qui cosa fanno? Io li programma e gli dico pescatemi tutti quelli che si interessano di finanza, che ha comprato un'azione, un pacchetto, chi ha messo un like, chi è entrato dentro in una pagina di forex e ha lasciato un commento. Io riesco a individuarli tutti. Anche chi volutamente cerca di non farsi sgammare, i miei robot sono lì e osservano, osservano tutti il grande occhio nascosto della rete, il grande fratello lo dirigo io. Questi robot li ho fatti, chiaramente ognuno corrisponde a un fake user, un finto utente, sono lì che scavano, ravanano, in sordina perché loro non si fanno scoprire, non scrivono niente, osservano tutti voi e ecco guardate qua, quello che volevo far vedere, qua sono, io ho un centinaio di schede sim, non so se, ecco, sono centinaio di schede sim di tutti i paesi, di tutti i paesi del mondo, ne ho qua veramente, io ho messo ad ognuna il suo numerino così io riesco a capire chi è chi non è ed ognuna ho autenticato un robot che fa il cosiddetto fake user, tutte le scaline dei paesi del mondo, ogni server in cui gira il software è collocato in una collocazione del mondo diversa e spingo in internet, notizie filo russe contro il sistema, martello, tam tam tam, cerco di distruggere questo cavolo di un sistema con i miei robot e la cosa bene o male ci riesco perché sono già lì tutti a dire ecco chi c'è dietro questi partiti politici, c'è Putin, filo questo, quello, quello, quel, facebook lo usano per manipolare le masse, poi c'è quella ecco siete dei complottisti, non è vero no non sono dei complottisti io vi garantisco e ne ho le prove perché sono io che lo faccio che c'è gente che riesce io non ne conosco però conosco me stesso che c'è gente che riesce a manipolare le masse e non solo io riesco a manipolare le masse io lo faccio utilizzando la essendo autistico per me è facile manipolizzare le masse perché per noi autistici tutti gli altri scusate anche per chi ci segue però in confidenza ve lo dico per noi tutti gli altri sono una massa di deficienti delle capre delle delle pecore da spostare di qua di là da manipolare allora pensa che per me che io più o meno ho rispetto per la gente che mi segue sono tutta una massa deficienti figurati per quello della finanza che non gliene frega un cavolo se lui gliene viene qualche cosa di rimandare in strada all'operaio con la famiglia col bambino piccolino gli dargli un calcio in culo e buttarlo in strada se a lui gliene viene un qualche cosa lui prende licenza non fa un cazzo della gente cioè quello là è spregiudicato per cui fa i suoi fottuti interessi ecco ritorno continuo sempre a rimandare un punto cruciale che volevo dire adesso lo dico questa gente qua sono dei manipolatori delle basse però non gli manca l'intelligenza che manca a noi autistici come voi sapete Einstein era autistico leonardo da vinci tesla tutti autistici tutti autistici con un qui sopra i 150 per cui gente eccezionale anche putin è autistico questa gente qua che comunque sono dei farabutti ma non autistici non hanno quindi la l'intelligenza per riuscire a capire esattamente le cose giocano a scacchi come un giocatore che non sa giocare come un dilettante quindi loro cosa vedono lo sporacchio del bitcoin allora gridano bolla 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 state lontani bolla 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 cerchi di mettere paura della gente questo questo fare in realtà rafforza di più il bitcoin perché il bitcoin avrebbe potuto essere in via teorica una vera bolla se questi deficienti qua non avessero gridato bolla bolla perché a quel punto lì sarebbe caduto sul sul carro del vincitore sarebbero saluti saliti tutti quanti anche quelli i cosiddetti ansiolitici gli emo quelli oddio è una bolla olio comprati vendo ho paura allora vendi 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 massa e allora scoppia davvero la bolla quel dire bolla bolla state attenti bolla bolla tutti gli ansiolitici quelli che tengono i soldi nei buoni fruttiferi postali perché ti rendono solo un investimento una cosa bellissima tutta quella gente lì non saliva mai su un carro del vincitore quando c'è quello il cosiddetto mago della finanza il magnate quello che veste in giacca e cravatta la camicia di seta questa gente qua crede ai farabutti gli impostori crede sono convinti che non bisogna andare nel bitcoin perché una bolla quindi lì non ci mai e in quel carro lì non salgono dentro quegli ansiolitici quelle gente che poi con l'effetto panico avrebbero venduto di botto i loro bitcoin facendolo crollare facendo scattare anche tutti stop loss e di conseguenza creando veramente lo scoppio della bolla sul fatto il fatto che questa gente gridi bolla 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 fa sì che un fenomeno che avrebbe potuto in qualche modo in via teorica configurarsi come una bolla non lo è perché nel bitcoin ci va gente che ci crede veramente e i cosiddetti cassettisti è vero c'è quella percentuale che compra vende bolla rivende il cassettista la fa dice ecco coglione è venduto me lo compri io a prezzo di saldo dopo due giorni il bitcoin ritorna recupera il 20 per cento che aveva perso e in più ribatte un nuovo record e questo è ciclico l'abbiamo visto quest'anno è successo cinque volte l'anno scorso è successo cinque volte e succederà adesso abbiamo fatto quota 10 mila dollari non facciamo ok stappiamo il don perignon matusalem festeggiamo però già sappiamo noi io già lo so fra un po perderà ancora un 20 per cento succederà e sempre notizia giottaggio qualche manovra ci sarà e poi ritorno a quello che era per cui non c'è niente da recuperarsi perché il bitcoin non è una bolla ma è un effetto contrario anzi mi sarebbe piaciuto anche disegnare schemi e cose per spiegare in realtà non è il bitcoin che in bolla è il dollaro che in bolla quindi per effetto della relatività tu misurando il bitcoin in bolla vedi un grafico che sale 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 in realtà quel grafico lì è lo scoppio della bolla dollaro perché alle fiat il valore chi glielo assegna l'oro qualcosa che c'è dietro una garanzia pagabile a vista nessuno è la collettività quando la collettività si sposta da dollaro su bitcoin in automatico decide ha già deciso che dio non è più dio dollaro ma io credo nel dio bitcoin togliendo di importanza al dollaro in automatico il dollaro stava facendo la fine dei dei dell'antica roma che vengono vennero sostituiti da da un solo dio quello del cristianesimo quello del cristianesimo andrà a finire che diventerà obsoleto come a suo tempo divenne obsoleto il dio bacco giove nettuno e tutti quei personaggi i dei del diciamo del dell'antichità allora questi cosiddetti trader torniamo al punto fondamentale e cerchiamo di fare un po la se chiarire la situazione con questa gente qua loro sono esattamente come i russi il rutto prende russo quello l'oligarca quello che si è imborgesito che va in giro io c'ho gli amici così per cui li conoscono sono ve lo dico io come sono anche perché non lo conosco mercedes bella vita se tu quello gli dici ma guarda che te quando è rinato tu mica avevi quella il cottage tu stavi anche te nella comunalca avevi andar bene avevi la gigoli se non andavi a piedi del tutto perché le macchine ce l'avevano in pochi no a sentir parlare loro loro hanno sempre avuto la mercedes sempre proprio il suo padre aveva la mercedes che già in russia non si potrà neanche importare la mercedes avevano la mercedes non vivevano nella comunalca non avevano eccesso senza la finestra cioè tutte quelle cose loro non le avessi se li senti parlare sono sempre nati aristocratici e benestati il trader è esattamente la stessa cosa adesso che il bitcoin comincia a funzionare e sono anche loro sono stanchi di il loro padrone dice bolla bolla e loro il pappagallo bolla 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 e loro pappagallo bolla bolla adesso poi dicono ma qua cazzo io sono qui tutti gli anni per quel 1 2 per cento quando mi va bene il 3 sennò ci perdo anche e però conti sfotto sfotto questi qui del bitcoin e io sono sempre dietro a perderci soldi però e gli altri invece guadagnano guadagnano quindi il loro cervello da gallina incomincia quell'unico neurone che c'è dentro a fare qualche scintillina tintinti a fare dei ragionamenti e quello dice ma a questo punto chi se ne frega del padrone della voce salgo anch'io sul carro del vincitore e cosa succede esattamente come russo quando arriva lì che prende quei pochi bitcoin a sentirlo parlare lui è sempre lui ha comprato i bitcoin quando costavano 15 30 dollari lui sempre va sempre stato per il bitcoin se mentre guarda avessi fatto gli screenshot di quello che venivano agli sfottò che venivano dentro nel gruppo a darci a noi avrei riempito un hard disk perché è sempre lì bolla sta attento ecco poi ne ripariamo fra un mese poi fra un anno andrea il bitcoin vale di più dell'oncia d'oro ha superati mille vendi vendi questi scenari apocalittici e io gli dicevo ma pensa per te cioè stai lì cioè io non ho mai cacciato nessuno al gruppo perché sono uno democratico mi piace il confronto e poi io cioè a me vi dico la verità io non sono uno che ha bisogno del bitcoin per tirare avanti io le mie vendite ce l'ho già io io ecco io mi occupo di immobiliare ciò appartamenti anzi è già da un po che dico li vendo li vendo vendo poi alla fine il mondo in questo momento sono tutti senza soldi tempo è dietro ma pochissimi mesi fa ho detto vende un appartamento datemi due bitcoin e uno 7 mila euro non se nessuno che ci aveva i anzi l'appartamento dove sono adesso volevo vendere già che ci sono allora io sono lì bene o male il mio di letto i miei di letto sono due ecco uno ve lo faccio deccelo qua sotto qui sotto il tavolino è un po uno è perdere tempo con questi appartamenti adesso ho fatto ho preso una serratura blindata e voglio fare un sistema di criptografia per aprire e chiudere la porta a comando e l'ho trasformato una segnatura blindata normale in una serratura elettro comandata ecco vedete che c'è la linguettina che entra esce e tutto fatto l'ho collegata la batteria gli ho messo i servomotori e poi è molto interessante perché sto facendo avere una invenzione su queste serrature qui che proprio autistica riesco a comandarla senza avere il wifi è una cosa che poi magari brevetterò allora questa gente qua che fino a ieri erano lì a lanciare anatemi rosica sono dei rosiconi saltano poi sul carro del vincitore e adesso non lì ma guarda che il trader non disdegna le cose in bolla ci trova il profitto ma guarda tutte queste regioni antigua ma allora perché fino a ieri venivate dentro a menare il terrone a lanciare anatemi a parlare di questo di quello di bolla a riportare mettevano i link addirittura degli articoli di giornale dei loro padroni financial times il giorno il sole 24 ore l'economy giornali internazionali di quelle cose mettevano il link del loro padrone che diceva bolla bolla loro da pappagallo per cercare di metterci paura ma allora brutto deficiente cioè adesso salti anche te sul carro del bitcoin e poi stai anche attento perché allora sì il tuo padrone poi ti spezza le gambe salti sul carro del vincitore adesso per te il bitcoin sono sempre stato un affare sempre un qualche cosa da entrarci dentro ecco un po a me questa cosa qua fa paura come mi fa paura quando nel bitcoin entrano dentro gli ansiolitici tutti quei deficienti lì che poi da una notizia si prendono panico vena i trader di fatto sono gente che si fa circuire gente ansiolitica e probabilmente al bitcoin non porteranno nulla di positivo anche se inizialmente i loro piccoli capitani le monetine che riescono a rubare i risparmiatori per lavoro che fanno ce li buttano dentro lì però alla fine come li buttano dentro lì poi li tirano fuori velocemente poi li buttano non riescono a capire anzi quella gente lì siccome poi io statisticamente ho anche l'ho anche verificato il trade è con il bitcoin tu non puoi perdere in qualsiasi cosa che fai lo compri non guardi vai via due tre mesi sei in ospedale poi fai qualsiasi cosa compri vendi a caso proprio compri vendi vendi compri bitcoin converti in etero poi scendono poi alla fine guadagni sempre è impossibile per il trader ce la fa perdere anche sul bitcoin c'è la perché si fa lui è la classe zombizzata lui crede al padrone il padrone tra il profitto sulle perdite degli altri e quindi quello è capace che vende quando e con le notizie poste di aggiottaggio e poi il demon l'admin di jp morgan se li compro i bitcoin di quello la e quel cazzo ma li ho venduti che li doveva comprare se sono capace anche di fare l'operazione al contrario quindi il bitcoin non ha bisogno di voi trader il bitcoin è un lavoro da cassettista da gente lungimirante e completo discorso per dire perché non crollerà mai per il momento è un mercato appena appena incominciato il suo livello è potenziale altissimo quanto lo è la popolazione mondiale siamo 7 milioni 643 mila milioni 7 miliardi 343 mila milioni di individui sul mondo e questi 7 miliardi 432 mila milioni di individui sul mondo incominciano a interessarsi del bitcoin per il momento quanti siamo che facciamo al bitcoin lo 0,01 per cento ancora non è niente si saturerà quando questa percentuale qua sarà molto grossa cosa succede man mano che si satura il bitcoin che la gente sposta di qua si crea un effetto bolla crede la gente crede di meno alla carta alle rotative alla carta straccia diciamo quelli non possono essere sordi e dà valore a questa cosa qui quella roba li scoppia fa c'è la bolla per un momento siccome i prezzi delle cose sono tutti aggrappati al dollaro per la teoria della relatività la gente non se ne accorge perché un caffè costa un dollaro domani un caffè costa un dollaro ma semplicemente perché tutto è stato etichettato come giustamente deve essere con la moneta adottata del non la moneta di stato perché non è dello stato di privati con la moneta adottata dallo stato quando poi la collettività superato il 50 per cento della diciamo quando la popolazione mondiale comincerà a dare più valore a un nuovo strumento epocale che cambierà la vita delle generazioni a qui in avanti non darà più tanta attenzione al dollaro e anche le prezzature degli oggetti comuni delle sim di tutto quello è delle bollette di quello che sarà espresso in criptovaluta moneta digitale moneta decentralizzata e la forza del bitcoin è proprio la sua decentralizzazione perché la gente crede al bitcoin perché per lo stesso motivo per cui non ci crede perché tanti dicono ecco il sistema piramidale c'è la gente tu ci guadagni devi tirare dentro gente pubblicizzi il sistema lo schema ponzi tu e il 5 per cento su di me che io a mia volta avrò il 5 per cento su quello che tiro dentro io è una piramide poi dopo alla fine non ci stiamo dentro tutti e e crolla per cui cosa in realtà lo schema non è questo non c'è nulla di nessuno tira dentro niente del bitcoin il bitcoin a valore perché è la collettività ad assegnarlo non c'è la spectre l'organizzazione segreta che gestisce bitcoin quindi la forza del bitcoin è esattamente l'incontrario del credere comune della massa plagiata dai detentori dei media di tv giornali il cosiddetto la cosiddetta piccola percentuale di trader i pesci grossi che guadagnano sempre loro hanno un grosso seguito fanno aggiottaggio in continuo aggiottaggio vuol dire plagiare le masse fargli credere spostarli muovere di qua e di là quindi la forza del bitcoin è proprio perché non è un sistema della spectre non esiste questa società questa entità segreta che ci dietro al bitcoin dov'è chi è sono io i miei colleghi i miners i altri colleghi sviluppatori gente che si interessa alla tecnologia nessuno lo detiene al bitcoin perché è un sistema peer to peer e come sistema peer to peer si intende un sistema software decentralizzato che non gira su nessuna macchina nel mio computer ci può essere un software che gestisce il bitcoin ma è una replica di una catena a livello mondiale distruggere il bitcoin o possederlo vuol dire possedere internet o distruggere internet tu può essere un nodo ma non puoi essere l'entità internet è l'uguale per il bitcoin è un sistema peer to peer dove chiunque può essere semplicemente un nodo un nodo di questo sistema qua e il sistema non è di proprietà di nessuno quindi sono tutte cazzate queste cose qui la piramide la gente che ci deve guadagnare su sul bitcoin deve tirare gente altra gente per conto mio meno gente si tira dentro nel bitcoin e più avrà un co uno deve entrare il bitcoin non perché è stato tirato da me se no ci smeno anch'io perché dopo tiro dentro gli emo, gli ansiolitici quindi diciamo la collettività trae un vantaggio quando si crea una comunità unita che crede al bitcoin e il fatto stesso di credere a una cosa gli dà il valore non è tirare dentro gente che non ci crede che poi alla prima scorreggia scappa e tico e di massa e poi ti crea di da di disastri e quindi noi non vogliamo tirare dentro gente nel nel bitcoin lasciamolo che segua il suo corso naturale come un fiume comunque sia il bitcoin sarà in arresta è vero qualcuno tira dentro ansiolitici poi usciranno crollerà un po il prezzo poi se però la fine fine il bitcoin è un fenomeno epocale che si basa su un costrutto su una evoluzione del progresso e abbiamo in questo momento qua abbiamo avuto la fortuna di nascere in siamo una generazione che vede un cambiamento epocale sull'utilizzo dei soldi è una cosa rarissima perché in migliaia di generazioni da qui a quando è nato l'uomo abbiamo avuto solamente quattro cambiamenti il baratto le conchiglie i soldi di metallo a cui segnato la collettività segna un valore questo metallo e la carta moneta adesso siamo al quinto abbiamo avuto un culo della madonna a assistere e come ecco io una volta ho avuto un culo di una volta ero nel borneo nella giungla e c'è un fiore che è un fiore puzzolente che è il più grande al mondo io sono capitato e ho visto il fiore puzzolente più grande al mondo cosa che non è rarissimo da vedere quando si schiudeva durante la sua fioritura il giorno ho avuto proprio a me che piace andare nella nella giungla che mi porto dietro lancia accuminata così se salta fuori la tigre la tigre della malesia poi mi do una botta in testa poi vuoi vedere che cazzo va viene viene un'altra volta ad attaccarmi che l'ha infilso non ce la può fare contro di me quindi abbiamo vissuto una cosa bella abbiamo visto il nascere di un qualche cosa che cambierà l'umanità e ce la godiamo ciao a tutti e alla prossima e trader rosicate 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 rosicate